Ragazzi purtroppo mi sono dilungato un po' troppo nel video e mi raccomando un altro fino alla fine Perché dico cose molto importanti verso la fine Che dovevo dire all'inizio però sono un imbecille Le ho dette alla fine perché mi sono perso Enjoy e buona visione Salve a tutti ragazzi sono Piaz Bentornati nel mio canale Oggi un video molto particolare ragazzi che vedrete in pochi Lo so però meglio pochi ma buoni si dice In questo video ragazzi vedremo tantissime cose Però prima partiamo con la sigla Bene ragazzi allora spero di non dilungarmi troppo Sì mi dilungarò è perché il video mi ha preso bene So che questo video lo vedete in tanti Perché in questo video in questo canale Scusate si vedono molto spesso gameplay Di Clash of Clans E difficilmente si vede un vlog Difficilmente si parla Difficilmente c'è dialogo fra me e voi Cosa che assolutamente è venuta a mancare troppo Nel mio canale ragazzi Allora in questo periodo sto vedendo Un po' di riscontri non troppo positivi nel feedback Quindi questo è un errore È un problema mio Questo è dovuto al fatto che Io appunto sto commettendo degli errori nel canale Perché se fino a un mese e mezzo fa Il feedback era molto molto più positivo Al di fuori della scalata Comunque c'è qualcosa che sto sbagliando Quindi per favore ragazzi Utilizzate la sezione commenti qui sotto E cerchiamo di capire insieme Cos'è che non vi sta piacendo del mio canale Cos'è che sto sbagliando E cosa potrei portare in futuro Moltissime volte mi è stato detto Piazza porta qualche altro gioco Anche oltre a Clash of Clans Non elimina Clash e porta solo altri giochi Ma si Unisci Clash of Clans A qualsiasi altro gioco che tu voglia E vediamo che cos'è che ne viene fuori È un'idea ragazzi che ho preso molto in considerazione Perché io comunque io gioco tanto Ho un computer che ho pagato anche moltissimi soldi Ed è davvero un peccato non usufruirlo Per utilizzare Per giocare solamente a Clash of Clans Sul canale Quando io gioco davvero a tantissimissime altre cose ragazzi Quindi io volevo davvero provare a portare qualcosa di differente Ogni tanto per variare da Clash of Clans Magari anche in compagnia di persone Con la quale non avrei mai potuto collaborare ragazzi Quindi spero che questa idea insomma vi possa piacere Vi possa appunto aggradare Inoltre ragazzi si è aperto molto spesso il dibattito Like o non like nei video Non solo nei miei In generale se ne sta parlando moltissimo su YouTube Allora un mi piace non si può strappare dalle mani Cioè un mi piace a volte Cioè lo si mette se un video ti piace O se una persona ti sta particolarmente a cuore o simpatica Quanti di voi mi avete scappato un mi piace appena cominciato il video? Come fate se il video sarà bello o no? Quello è un mi piace sulla fiducia È un mi piace sul Appunto sul creator È una sorta di fiducia Una sorta di pacca sulla spalla Mi fa piacere che oggi riesco a guardarti 10 minuti Anche se non hai fatto il gameplay super perfetto Col contenuto super perfetto Alla fine siamo su YouTube ragazzi Non sono lo YouTuber che crea film su YouTube Si parla di un gameplay Si parla comunque di un gameplay di Clash of Clans Per quanto tu possa essere super bravo È davvero difficile riuscire a fare un capolavoro Quindi nel mio caso molte volte sono dei gameplay Con cui magari voi potete passare un po' di tempo Ovvero quei 10 minuti Quei 12 minuti in compagnia Ma senza troppe pretese ragazzi Perché comunque è anche difficile riuscire a portarvi un super contenuto su Clash of Clans C'è chi riesce molto bene Io provo a fare il possibile Infatti negli ultimi giorni vi ho portato dei contenuti abbastanza esclusivi Secondo me che si vedono in pochi canali Secondo me Non sono stati super apprezzati Non è importante Perché secondo me comunque come video sono molto interessanti Infatti stanno avendo moltissime visualizzazioni Perché comunque sono video che secondo me la gente ricerca E generalmente non se ne è quasi mai parlato di queste cose su Clash of Clans Quindi di questa cosa sono molto molto contento Inoltre ragazzi volevo chiarire una questione molto molto importante Che mi sta molto a cuore per quanto riguarda il mi piace E poi chiudiamo sta parentesi Il fatto che da un singolo mi piace lo youtuber non guadagna un centesimo E praticamente le visualizzazioni vengono monetizzate in base alle visualizzazioni monetizzate mensili Quindi non con un mi piace Quindi io infatti quando mi chiedevo un mi piace E magari tanti di voi si lamentavano e mi mettevano un mi piace Va bene non c'è problema Ma i miei video ultimamente stanno avendo molte visualizzazioni Se dovessi imparare dal punto di vista economico Posso dire beh comunque dai gennaio è il mese meno retribuito dell'anno Tutto sommato sono rientrato nelle spese e nei guadagni Comunque avendo fatto questi video più cliccati del normale Però a me non importa nulla ora come ora Guadagnare tot o guadagnare tot Sinceramente vorrei che il mio canale sia bene dal punto di vista del feedback Se non lo sta facendo è perché sicuramente sto sbagliando qualcosa E qui appunto rientra il discorso iniziale di provare ad aiutarmi con un commento qua sotto Di cosa vi sta piacendo e cosa non vi sta piacendo Quindi se di tanto ragazzi mi scappa di chiedermi un mi piace per il supporto Non siete obbligati a farlo perché nessuno è obbligato a farlo Ci mancherebbe però magari alcuni si dimenticano E credetemi che quel click a volte è molto molto utile Molti credono che con un non mi piace si danneggi il canale Cosa falsissima ragazzi Con un non mi piace il canale non si danneggia Perché comunque le aziende ti contattano ugualmente Le aziende vengono da te ugualmente Potrei fare nomi ma non li faccio Moltissimi youtuber che hanno balanghe di non mi piace ai video Però sono seguiti da migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di persone Ragazzi quelle persone campano sui vostri dislike Quindi alla gente non importa niente se voi mettete un dislike o no Ed è un po' un peccato perché sei un po' persa la cosa del non mi piace E subito commento sotto con scritto non mi piace perché tu hai fatto questo nel video E secondo me è sbagliato Quindi ti metto un non mi piace per provare a farti migliorare Però te lo scrivo sotto nel commento Perché altrimenti è solo un atto di hating È solo un atto di odio Io non penso di aver mai lasciato un non mi piace in un video E se l'ho fatto ma non credo forse l'ho fatto agli inizi Proprio quando ero un utente e non un creator Che è un po' differente la questione secondo me Siamo sulla stessa base però è un po' differente Per quanto riguarda i contenuti E il pensiero che si ha verso youtube Però si comincia a superare la soglia del Un hating Cioè un hater Una persona che odia Secondo me è molto peggio dei fan compulsivi Ieri sera ho scritto un post su facebook Sul mio profilo personale È scoppiato l'idea general Mi ha scritto mezza youtube italia Sul profilo privato Infatti questo vlog arriva proprio per questo Il mio futuro del mio canale Che cosa succederà al mio canale In futuro Clash of Clans riprenderà Però ragazzi ho portato la scalata È andata molto bene la scalata Solo che comunque dopo che è finita la scalata Ho visto un leggero declino Oddio declino è un parolone Ragazzi siamo 50.000 Cioè sono un numero fottutamente alto 50.000 persone Sono tantissime Il problema è che vorrei provare un po' a variare Infatti nei prossimi giorni Arriverà appunto Una nuova serie di Clash of Clans Ad obiettivi Però volevo anche alternare un po' Clash of Clans A qualche altro gioco Ma qualche altro giocone ragazzi Perché ho un computer Davvero che sarebbe pieno di reggere Qualsiasi gioco di nuova generazione A settaggi a ultra Ed è un peccato Non utilizzarlo secondo me Inoltre io ragazzi Comunque aspetto moltissimo Far Cry Primal Aspetto Dying Light Aspetto il nuovo Need for Speed Che madonna quanto mi gasano Need for Speed Giocati in cooperativa con gli altri È una roba super figa Che io amo fare Cosa che non ho mai potuto fare Perché sono convinto Che comunque sul canale Non andrebbero E tanti mi darebbero Piazza Ma fottitene Cioè è il tuo canale Porta quello che vuoi Ed è vero È il mio canale E porto quello che voglio Cioè è ovvio È una cosa normale Qualsiasi youtuber Secondo me dovrebbe portare Ciò che vuole Unito al consiglio Dei suoi iscritti Perché insieme Si forma un canale Quello sì Solo che io comunque Vorrei provare A cercare di fare Una cosa appunto A 50 e 50 Quindi io porto Ciò che voglio Voi mi dite Ciò che volete Proviamo a venirci incontro Tante volte Se non è Clash of Clans Ho visto sul canale Di altri miei colleghi I miei amici Addirittura Se non è Clash of Clans Si apre il video Si mette dislike E si chiude Sappiate che non state Danneggiando il canale Se voi magari lo fate Solo per dire Non fai Clash of Clans Ti metto dislike Così impari No Non avete capito Quasi niente Di youtube Secondo me Ora non sto parlando A tutti Perché ogni volta Che si fanno questi video Una persona Sente presa in causa Sempre a prescindere No ragazzi In media Di i miei video Ho 3.000 3.500 mi piace Che sono tantissimi Ragazzi Ho 45.000 iscritti Non ne ho 90.000 Ci sono canali grossissimi Da 100-100.000 iscritti Che non li fanno 3.000 mi piace video Quindi di questo davvero Grazie Davvero di cuore Grazie Perché sono numeri altissimi Altra cosa che mi premeva a parlare Ragazzi Erano i due video al giorno Cosa molto molto Discussa nel mio canale Allora Io vi avevo promesso Due video al giorno E raggiungimento di 5.000 mi piace Ancora ai tempi Della scalata L'idea è che durante la scalata 5.000 mi piace Erano relativamente pochi Perché avevo un'utenza Così attiva Che davvero tantissimi youtuber Per me hanno scritto Come cazzo fai Ad avere sti numeri Con 42-40.000 iscritti Che avevo allora E io non sapevo cosa dire Non sapevo cosa inventarmi Mi avevano detto Piace tutti Compri mi piace Cioè Quel periodo lì È stato il periodo più attivo Del mio canale Con circa 300 iscritti al giorno Oggi siamo un po' di meno Però vabbè Febbraio non è un super mese Quindi io non darò mai La colpa agli iscritti Se un canale Non va più come prima La colpa è di Chi fa i contenuti Al 101% Non è un problema di feed Non è un problema di cazzi Non è un problema di niente È un problema di chi crea I contenuti Mettiamocelo Chiaramente In testa E comunque Il fatto che ci sono Meno visualizzazioni E tutto nelle serie A me sta bene Perché la scalata Mi prendeva 8 ore al giorno Praticamente Io scalavo 4-5 ore Anche se ero solo A 4200 coppe Non ero altissimo Tra l'endit Tra la mia vita privata La mia ragazza E tutto Io non riuscivo A fare due video al giorno Di Clash of Clans Se avessi portato Un altro gioco La sera Sicuramente ce l'avrei fatta Però quanti di voi L'avrebbero apprezzato Sinceramente ragazzi Quanti di voi Avrebbero detto Piazza Io guardo i video Per te Chi se ne frega Di cosa porti Quello è l'apice Di YouTube Se si riesce ad arrivare A quello Ce l'abbiamo fatta Su YouTube Italia Siamo ancora distantissimi Da questo pensiero Ma piano piano Ce la si farà Spero davvero Intanto ragazzi Abbiamo sforato I 10 minuti Io avrei da parlarvi Ancora 7 ore Praticamente Perché chi mi conosce bene Sa che io parlo Davvero davvero Tanto E questo è un problema O un bene Su YouTube È un bene Solo che a volte Non tutti Arrivano a guardare Di video fino in fondo Quindi molte cose Se le hai perduto Io so che questo video Lo avete visto In 2000 Se tutto va bene Ma io quei 2000 Me li tengo stretti Se voi avete visto Quel video fin qua Ragazzi Io potessi stringermi mano Lo farei Perché questo vuol dire Davvero Aver capito La mia questione Il mio video Perché Piazza Ha fatto questo video Se sei arrivato fin qui È perché tu Sicuramente Lo hai capito Mi hai ascoltato Fino ad adesso Avrei da dirvi Moltissime altre cose Però ragazzi Se no il video Viene davvero Di 35 minuti E ci metto 27 anni e mezzo A caricarlo su YouTube Cosa che io non posso fare Perché ho una 20 mega Che poi va a 0 mega Quindi è una Meno 7 mega Non è una connessione A internet la mia Cioè il primitivo Che gira la manovella È quando si ricorda Mi carica i video Quindi non posso farlo Bene ragazzi Faccio un breve recap Del video In poche parole Abbiamo parlato Il fatto del feedback Un po' Meno presente Rispetto al passato Che presumo sia colpa mia Quindi con i commenti Qui sotto Il fatto dei nuovi Video in futuro Qualche nuovo gioco Qualche nuova area Qualche gioco in collaborazione Arriverà su Clash of Clans Comunque ragazzi Qualche video Con qualche altro YouTube Tra breve Arriveranno un po' Di video Se tutto va bene Questa cosa comunque Clash of Clans Volevo tenerlo sul canale Perché a me piace Clash of Clans Solo che ogni tanto Comunque fare male Due video su Clash of Clans Al giorno È un po' Pesante O se no dovrei utilizzare Il secondo villaggio In quel caso Non sarebbe troppo complicato Perché sul secondo villaggio Non c'è un lavorone da fare Sul primo già sì Perché sono a coppe alte E comincia a essere un po' Complicato Portarmi contenuti Perché insomma Bisognerebbe anche Schippare molto Ed è un po' Un problema Quindi il secondo punto è questo Terzo punto è il fatto Dei mi piace E dei non mi piace Che non rovinano Assolutamente un canale Il non mi piace Volevo farlo presente Perché molti pensano Il mi piace Ti fa guadagnare Magari il non mi piace Ti fa perdere soldi No 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 Il mi piace Non fa guadagnare Il non mi piace Non fa perdere soldi Da dove mi riscala i soldi Il non mi piace Da dove mi dà i soldi Perché un'azienda Dovrebbe pagarmi In base ai mi piace Un'azienda mette La sua pubblicità Prima dei video Basta Cioè Non gli importa niente Di quanti mi piace E quanti non mi piace Hai Quindi ragazzi Questo era Un piccolo appunto Volevo parlare di tutt'altro Ma ho decenerato Sempre però Una cosa importante Ve l'ho detta Il nuovo andazzo Del canale Quindi ragazzi Vi dovete lasciare un mi piace Se avete visto il video Fino a qui Ma sarete davvero in pochi Ed è anche giusto Ed è anche normale Perché siete abituati Ad altro sul mio canale Noi ci vediamo come sempre Domani Da Piazza È tutto Un saluto E ciao